C'era una volta la visione di Triple H, comprendeva performance center sparsi per il mondo, show che targhettizzavano nazioni in via di espansione come interesse per il wrestling, ad esempio l'India, e un'idea di NXT basata sulle compagnie indipendenti. Lo stesso format, lo stesso concetto, la medesima filosofia, ma declinata attraverso il valore di produzione della WWE. Oggi invece la compagnia, che si appresta a rendere noti i risultati finanziari dello scorso anno, sembra aver cancellato quasi tutto. La priorità, dopo aver rinnovato il parco dei presidenti, è quella di vendere i diritti della sua library. Quelli di Roy di SmackDown sono a posto. A breve dovranno rivelare a chi hanno ceduto i diritti di trasmissione della replica del giorno dopo. E poi c'è il network. Il network che in America è stato assegnato a Peacock e che in Indonesia se lo è preso pochi giorni fa a partire dalla Royal Rumble di Disney+. Una virata importante dalla creazione di mondi alla vendita del prodotto televisivo. Io non so quale sia la strada migliore, né se le due vie siano coesistibili. Tuttavia, complice anche la malattia cardiaca del progetto che Triple H ci ha illustrato nel corso degli anni, è rimasto ben poco. E io credo che non sia nemmeno colpa sua. Semplicemente il mercato è cambiato. La sua idea innovativa della geolocalizzazione mondiale non era male, anzi, era intrigante. Rappresentava una sorta di napoleonico desiderio di dominare tutto il globo, portando delle serie minori della WWE con il brand di NXT ovunque per coltivare lì i talenti del domani. Un concept, però, che necessitava di un enorme sforzo produttivo, di ingenti investimenti, di personale sul posto, di vendita dei vari prodotti TV così realizzati. Io in Europa, pochi giorni fa, ho letto che in Francia è stato venduto, finalmente, sono stati venduti, i diritti per NXT UK. Ma è poco, è poco. E forse è tardi. Quindi io non me la sento di gettare la croce addosso a Triple H, perché voleva fare qualcosa di assolutamente speciale, per certi versi anarchico, è adeguato ai tempi in cui quelle idee sono state concepite. Ma oggi si viaggia a velocità triple rispetto al passato. E forse quei concetti sono invecchiati troppo alla svelta. E il mercato si è messo sulla corsia di sorpasso e ora vendere gli show tv è diventato prioritario rispetto all'ampliarli. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E oh, lasciate un pollice in alto su via, non vi costa niente.